Non mi guardate così, dovete andare a casa, è vietato, andiamo, andiamo. Siamo con i piedi dell'altro. A casa, a casa, non si può stare in mezzo all'astrazzo, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. A casa, dai, non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decretto, siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decretto lo faccio rispettare io. Quindi se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti? Dovete stare tutti a casa, deve andare a casa adesso, altrimenti viene la polizia e se la porta di peso a casa in questo momento. Andiamo, anche voi, non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo. Alla playstation, andate a giocare alla playstation a casa, non si può stare qua, andiamo, andiamo. Non potete stare qui, a casa. A casa, sto dicendo che dovete andare a casa, mi dispiace, parlatemi a te, non si può stare, è vietato. È vietato, mi arrivano segnalazioni, non si può stare, ci ammaliamo, è un'emergenza nazionale. Non è una cosa a giocare, non è che so immagini, quelle che arrivano da Milano, da Bergamo, non è che so, è un telefilm. Sta succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare. Mi farete ammalare pure a me, di crepa cuore mi farete ammalare.